Racconta quello che è successo lì, siamo ieri da soli Ha durato due secondi l'entrata Stavamo entrando tutti in metropolitana ma ci ha chiuso la porta, cazzo Ora siamo qua da soli, ci siamo persi Speriamo di azzeccare la fermata giusta Allora, dobbiamo scendere La fermata la sappiamo Sappiamo se questo è giusto Pensa il terzo 35 Siamo andando verso l'embre 19 adesso Mica, siamo rimasti soli La tipa sarà bella Sei rimasti soli io e te Ma noi ce la fai Mica, pensa se rimaniamo da solo O tu o io Mica Interpanico Il lavoro del metro Il lavoro del metro Grazie Il lavoro del metro È Ikebukuro Il lavoro del metro È Ikebukuro Invece il metro Eccolo qua il palazzo della... Come si chiama più? Del governo Uno dei punti panoramici di Tokyo dove dovremmo andare che palazzotto il bambino Adesso siamo verso la figlia, dopo la figlia, verso la fine della casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.